Dopo un avvio a rilento, sprint di vendite per i saldi estivi. Il sondaggio di Confesercenti tra le vetrine cittadine dopo due settimane dall'inizio degli sconti ha infatti evidenziato una ripresa di vendite a prezzi scontati dopo una partenza con il freno tirato. Dall'indagine, spiega il vice direttore di Confesercenti Valerio Alvisi, emerge una partenza fiacca nei primi giorni. La situazione poi è progressivamente migliorata nei giorni successivi, adesso le vendite stanno recuperando per allinearsi ai livelli dello scorso anno. I saldi rimangono con mental visi per i commercianti un periodo utile a prendere una boccata d'ossigeno, anche se i margini di guadagno durante i saldi si riducono notevolmente. Nei negozi infatti c'è bisogno di liquidità per far fronte alle innumerevoli spese e tasse da pagare. E' altrettanto vero che il periodo di saldi non è sufficiente per recuperare una stagione negativa caratterizzata da un basso livello di vendite a causa di un maggio freddo. Tra i negozi, inoltre sempre secondo le indagini di Confesercenti, c'è chi vede favorevolmente le iniziative serali come spinta per le vendite. A far discutere invece i commercianti è ancora una volta l'annosa questione della data di avvio dei saldi di fine stagione, che siano estivi oppure invernali. Per alcuni è infatti importante posticiparla, per altri invece no. Tutti concordi infine sull'allineamento a livello nazionale. La data di partenza conclude al visi secondo i commercianti a retini deve infatti essere uguale per tutte le regioni.